ciao oggi la diretta poi organizzerò le dirette più o meno sempre alla stessa ora in modo che chi vuole può può seguire interagendo comunque è su sullo sguardo malefico del narcisista è uno sguardo che del narcisista patologico dello psicopatico uno sguardo che molti di noi hanno conosciuto ed è uno sguardo che non si dimentica è uno sguardo che dovrebbe farci fuggire a gambe elevate ma non ci ha fatto fuggire a gambe elevate questo sguardo buongiorno sandra gabriella carmen claudia buongiorno allora questo questo sguardo che molti di voi hanno intravisto almeno a volte è lo sguardo del dottor jekyll e mister haid e lo sguardo dell'uomo che c'è dietro la maschera e dietro la maschera c'è una cosa orripilante c'è esattamente quel vuoto che che un sms in privato se arriva rispondo c'è quel vuoto c'è la sua vera identità c'è la sua vera natura e che cosa succede in quel momento che cosa sono quello è lo sguardo del predatore lo sguardo rettiliano direi è uno sguardo terribile ed è lo sguardo privo di vita privo di compassione completamente buona giornata ciao a tutte completamente dissociato da ogni tipo di emozione di sentimento è uno sguardo sono due buchi neri quegli occhi il mio ex aveva gli occhi blu ma diventavano neri ed è uno sguardo che io non dimenticherò mai come credo molte super vissute non dimenticheranno mai buongiorno buongiorno quello lo sguardo della malattia quello lo sguardo della patologia c'è una studiosa molto brava che non è stata tradotta in italiano sandra brown io studiai sui testi nel 2016 e c'è da battere i denti quando racconta veramente che cosa combina al cervello della sua compagna lo psicopatico con anche questo modalità dell'essere del non essere che lui vive innanzitutto questo sguardo è uno sguardo malvagio cattivo uno sguardo che rivela la natura di un'ombra senza luce ed è uno sguardo sì nel covert nello psicopatico si vede questo sguardo grazie per i complimenti per il libro sono contenta e il sorriso non è un sorriso il sorriso diventa un ghigno malefico perché sta godendo nel vedere che state soffrendo allora ma c'è dell'altro voi dovete sapere che ciao 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 ragazze dove dovete sapere che sandra brown che è veramente un esperto in materia io all'epoca poi volevo tradurre delle cose sul libro comunque ve le racconto ve le leggo in diretta traduco in diretta dei passaggi importanti dovete sapere che questi esseri riescono ad accedere a uno strato di trans per cui ipnotizzano realmente ci sono degli studi le loro vittime è una capacità che loro hanno innata la possiedono loro hanno proprio un cervello comunque che funziona in maniera diversa dal nostro non ha proprio le aree deputate all'empatia ci sono delle differenze proprio tutte io c'è la mappatura di tutta la struttura del cervello un giorno ve la ve la faccio vedere e la commentiamo ve lo traduco dalla dall'inglese perché dovete sapere così passa ogni voglia di non fare uno contact o di una nostalgia o di questo sguardo io nel libro lo descrivo e questo sguardo mi ha sempre spaventata eppure sono sempre rimasta anzi sono addirittura tornata avendo letto di quello sguardo ma lì c'era una bambina che doveva ancora essere guarita perché se no non si torna da una guzzino feroce che ci vuole solo distruggere ma lo fa in maniera molto raffinata ci dobbiamo autodistruggere non deve essere lui a distruggerci questo è il suo capolavoro perverso no portare la vittima l'autodistruzione perché così lui ne esce con le mani pulite quanto dolore ragazzi sì e ci è andata bene a me ci sono morta lo sapete quasi quindi mi è andata bene le prime due tre volte l'ultima volta la pallotto la mia centrata quindi tu hai sempre nostalgia roberta te la facciamo passare immediatamente vieni nel gruppo riprendersi il cuore entra dentro il gruppo faremo degli esercizi perché hai nostalgia di una maschera che lui ha creato ragazze c'è è proprio la nostalgia della maschera quello che tu hai visto non esiste non c'è non c'è è la maschera è la maschera che il predatore indossa per catturare le prede è la maschera del demone dietro l'angelo ma la realtà è demoniaca non è angelica di quella natura ragazze e tra l'altro mi sono ricordata che anche sandra brown parla proprio di demoni non sono l'unica matta proprio perché appunto gli americani ne parlano di più qua da noi non si ha il coraggio della natura demoniaca dello psicopatico e ci si domanda c'è una natura demoniaca psicologica e c'è una natura demoniaca spirituale che si incontrano sì e se non vi piace pensarlo come un demone spirituale pensatelo come un demone psicologico ma è un demone è un demone che vuole la vostra morte vuole la morte dell'anima e vuole spegnere la luce allora detto questo quello sguardo rivela la sua vera natura loro riescono a mandare in trance la vittima quindi le donne a volte si sono sentite come ipnotizzate questa sensazione alcuni studi scientifici dimostrano che è vera hanno pure questa particolarità che appartiene avete presente nel mondo animale quando il cobra fissa la sua preda che a volte rimane quasi paralizzata ecco quello sguardo serve a paralizzare prima di uccidere prima di colpire e il gioco del silenzio in realtà il gioco del silenzio non è un gioco è una tortura io oggi volevo parlare proprio di questo sguardo devil stare lo sguardo del demonio penso che voi conosciate hg tudor è un narcisista che scrive in inglese ho letto tutti i suoi libri usa la sua patologia ovviamente come palcoscenico però ci dà anche molte informazioni su come funziona la mente di un narcisista perché racconta proprio la loro verità come loro ci vedono proprio come fonti di benzina da cui attingere poi da iniettare senza nessun rimorso sono molto interessanti i suoi libri sono molto belli sono fatti molto bene e lui si descrive anche lui come demone evil ma certo certo che cos'altro è il trattamento del silenzio vedo che sì perché siamo molto c'è chi è già in no contact chi sta imparando il narcisismo adesso il trattamento del silenzio quello strumento di tortura che utilizza il narcisista patologico in cui scompare per giorni senza motivo per ledere la vostra identità la vostra autostima per farvi macerare mentre sghignazza altrove con qualcuna nei sensi di colpa cosa ho fatto perché non mi parla più io ci morivo ogni volta e come sente che vi state riprendendo ritorna ed è una tortura psicologica molto violenta quanto il gaslighting è una cosa veramente grave ragazze state gioca state giocando con il fuoco con la morte andatevene subito scappate scappate perché quando vi ha fatte a pezzi e siete finite in una clinica psichiatrica o con un cancro è troppo tardi prima ci si salva e più pezzi d'anima si portano via e sì voglio proprio spaventarvi perché è importante e io non ero spaventata abbastanza evidentemente ho letto tutte queste cose ma come sapete abbiamo anche un inconscio quindi non c'è solo la parte cosciente e lo diceva di essere un demone a me diceva che lo ero io perché essendo lui un demone lo proiettava su di me anima nera mi chiamava anima nera demone c'è le corna c'è i ciappuzzi di zolfo non so come abbia potuto accettare certe cose erano le ferite che mi portavo dentro da bambina che permettevano che avvenisse tutto questo e comunque ragazze quello sguardo quando voi avete queste nostalgie ricordatevelo perché quello è lo sguardo vero l'altro non esiste è difficile doloroso però dovete capire che l'altro non esiste e questo ve lo dicono gli esperti in materia perché uno psicologo normale a volte fa danni perché dice sono vere tutte e due no signori no l'altra non è vera infatti una maschera non è il falso se la psicanalista conquistavo fece un danno grossissimo a me perché mi disse sono vere tutte e due bene così mi paralizzi così io non vado avanti perché allora penso che sono vere tutte e due allora la parte angelica che mi piace vera no è una grande stronzata non è vera per niente no no ve lo assicuro credetemi fidatevi ho studiato tanto ed è il falso se è il falso se paradossalmente la parte più vera anche se un vero se non esiste è quella di quando cade la maschera e viene fuori tutto quell'orrore vacuo di di nulla di nulla lui è nulla nulla è odio è odio è odio che vuole mangiare l'amore è vuoto che deve predare assorbire cose che lui non ha deve prendere tutto energia soldi sesso energia sessuale attenzioni vuole l'anima narcisista vuole la vostra anima non vuole solo il vostro corpo attenzione no beatrice io non sono meglio degli psicologi non fraintendetemi dico che ci sono alcuni psicologi che non sono esperti in materia di abuso è una cosa molto diversa quella che ho detto non mettetemi in bocca cose diverse allora purtroppo in italia siamo molto indietro tra l'altro nel 2015 2016 ancora più indietro oggi si parla molto di narcisismo e non sono tutti preparati come in america dove le dinamiche io ho studiato sui testi americani in italia non esisteva nulla le dinamiche codificate che oggi vengono trattate anche nei libri lo trattate anche io nel mio vengono trattate nei libri in italia che sono le sapete tutte a memoria no l'idealizzazione la svalutazione il gaslighting il trattamento del silenzio sono cose che un terapeuta deve sapere deve sapere che è una violenza psicologica non che semplicemente io mi sono imbattuta in un narcisista pazienza che quindi si si ama proietta su di me le cose no quella era la la era lo strato dentro c'era il gaslighting ragazzi state scherzando il trattamento del silenzio la mia psicologa non non sapeva che erano strategie il no contact non se ne parlava neanche quindi ci sono dei danni enormi l'altro giorno mi ha scritto una persona la sua terapeuta sta dicendo se vuoi sentirlo sentilo se non vuoi sentirlo non sentirlo sta facendo un danno enorme a questa paziente è enorme perché c'è una sola via di salvarsi al no contact ed essere educati sulla dinamica terribilmente uguale a fotocopia con cui il narcisista patologico lo psicopatico percorre il suo iter di truffa sentimentale e danni dell'altro chiaro quindi sì ci sono dei terapeuti che possono fare danni se non sono preparati sì non basta una terapia qualunque no bisogna sapere di cosa si sta parlando bisogna conoscere i loro meccanismi di distruzione della vittima e per fortuna oggi in italia qualcuno si è svegliato e l'ha capito nel 2016 erano veramente tre italiani e il resto gli americani avantissimo avanti avanti ci sono terapeuti specializzati in america proprio solo sull'abuso hanno codificato i testi sull'abuso ecco quindi la mia era una psicanalista psichiatra jungiana no non è che ma dove viveva è che molti veramente psicologi non conoscono la patologia perché ovviamente una psichiatra è una patologia che sta anche è una patologia che sta nel dsm però tutta la dinamica la danza di distruzione nei confronti della preda non la conoscono per esempio il mio arrivava a per esempio ecco il gaslighting mi faceva impazzire perché insisteva che la mattina io ero entrata in rete e io non c'ero entrata che un messaggio non gli era arrivato questa cosa della rete mi ossessionava tu eri in rete stamattina alle 6 cioè ho avuto la notifica che si è entrato che è scritto che non ricordo adesso tutte le follie ha lasciato dei soldi sul tavolo li ha tolti mentiva sudati fatti e circostanze perché voleva farmi impazzire e questo un terapeuta lo deve sapere cioè non ci si può fermare al fatto che il narcisista è centrato su di sé è incapace di amare e proietta le sue nefandezze sulla vittima questo veniva detto dalla mia psicanalista ma il resto il trattamento del silenzio la manipolazione la gaslighting feroce il gaslighting che mi faceva perché io ci stavo malissimo diceva arrivava una telefona arrivava un messaggio sul cellulare sosteneva magari c'era il nome di un mio amico sosteneva invece che era un numero di telefono oppure che la telefonata dell'amica era arrivata alle 11 non alle 10 perché lui era io ho vissuto veramente sotto sequestro con un paranoico perché siccome lui aveva il suo entrallazzi li proiettava su di me e questo io ci ho messo tanto 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 a capirlo per farvi capire a che livello può arrivare la pericolosità di queste persone quanto diaboliche sono a me arrivò addirittura una foto di lui con un'altra in posa intima quasi con due bocche che si avvinghiano lo racconto nel libro però è in controluce ci sono due tende in controluce la donna è magra come me ha i capelli più o meno tipo mia ha detto che ero io ha detto che capite dove arrivano questi esseri perversi e diabolici vogliono distruggervi distruggere la vostra fiducia nelle vostre percezioni nel mondo e convincervi di cose malsane perché più vi indebolite e più loro vi controllano e vogliono anche vedere lui avrà detto vediamo se francesca vediamo fin dove si spinge francesca vediamo fin dove posso arrivare per distruggerla cosa posso usare fare e io ero la sua schiava non vivevo più non esiste vivevo solo per lui mamma mia ragazzi sono anche tornata indietro quando ero libera avevo assaporato come si sta meglio senza un narcisista e vabbè lì c'è stato un trauma che mi ha riportato indietro però io auguro a voi di capire veramente con chi avete a che fare e di tiziana no vabbè in che senso allora gli scarti che sono tanti allora in media una vittima torna con un narcisista sei o sette volte anche dopo che sia educata sul narcisismo può accadere è più raro ma accade che ci torno io infatti mi ero educata sul narcisismo ci sono tornata la cosa brutta mia è che ci sono tornata che stavo bene ero felicissima e avevo iniziato una nuova vita proprio quello è grave a volte la vittima sa che è un narcisista ha scoperto tutto però sta talmente male che torna indietro e quello è più debole io sono stata veramente diabolica come lui porca miseria allora dovete capire ritornando al discorso molto importante di questa maschera quando avete la nostalgia della maschera questa maschera è finta e quegli occhi buoni che vedevate quel sorriso è tutto artefatto è un predatore è un avvoltoio voi siete la sua preda è un angelo nero quindi sa benissimo usare il linguaggio degli angeli però è nero si l'episodio ah tiziana l'episodio della foto io l'ho conservata l'unica cosa che ho conservato ce l'ho perché è incredibile ma infatti io lì poi non ho ceduto guarda che non sono io però me l'ha mandata per colpirmi apposta soprattutto perché il giorno dopo avevo dovevo insegnare alla corte dei conti e lui era invidioso del mio lavoro doveva distruggermi quindi voleva destabilizzarmi farmi male voi andate a letto con il vostro nemico se state con un narcisista patologico state dormendo con un kamikaze guardando indietro vire alla differenza di che cosa come si vede la differenza francesca mi fai tenerezza vorrei capire se quando noi facciamo il no contact a loro manchiamo no 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 cara no no perché loro non sento allora io lo so che è difficile è difficile ci vuole tempo ma nel tempo lo capirete non sentono nulla non sentono non amano non amano quindi non possono sentire mancanza di un oggetto per voi siete questo che posso cambiare con questo che quando mi ha stancato cambio con questo che se ne frega l'importante è prendere energia quindi non gli mancate proprio gli tira il culo se vi dimenticate di lui per il suo ego e quindi vuole tornare a prendervi per riformirsi ancora ma solo per quello vi vuole morte vi vuole distrutte senza di lui non sopporta l'idea che voi possiate essere felici senza di lui per questo il mio e io le sapevo queste cose e per questo il mio ex tornò tornò cioè ci vedemmo perché avevo deciso che gli dovevo ridare le magliette un genio sono rovinata e ci siamo incontrati a prendere un aperitivo gli ho ridato le sue cose invece dovevo bruciarle o lasciarle in un bar comunque e ci sono ricaduta ma loro non e quindi ha visto che io ero felice e mi ha rivoluta se fossi stata distrutta probabilmente non c'era energia da prendere ma visto che ero felice ero anche innamorata avevo appena conosciuto una persona mi stavo innamorando era presto a letto loro sono telepatici e vi leggono a letto il quadro ha capito che io stavo benissimo ero felice stavo anche per lasciare l'italia la prendo la distruggo e io questa volta mi ha distrutta sul serio allora non pensate mai 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 di mancargli non pensate mai di mancargli voi volete fare il no contact punto e basta e quando vi viene la nostalgia pensate veramente a quegli occhi vitri di psicopatico e alla sua vera natura utilissimo è farvi una lista di tutte le cose brutte che vi ha detto e quando viene il momento di nostalgia o focalizzatevi proprio sui momenti brutti perché che cosa fa la mente traumatizzata e manipolata torna ai momenti belli e nega quelli brutti nega l'abuso viene negato è la sindrome di stoccolma della vittima che si innamora in qualche modo del suo guzzino e lo protegge ed è una cosa che ha radici antiche il bambino protegge il genitore e prende su di sé la colpa e il demonio sa bene che la colpa è la cosa che vi farà inciampare è la colpa che crea la separazione è la colpa che distrugge per sentire qualcuno in colpa e quindi non dovete sentirvi in colpa dovete sentirvi libere e sto leggendo i vostri commenti la cosa importante è smascherare 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 perché io la maschera gliel'avevo tolta gliel'ho riappiccicata gliel'ho riappiccicata c'erano anche discorsi ve l'ho detto di una ferita irrisolta che sapevo che ero andata la stavo guarendo detto guarisco questa non incontro più di narcisisti la ferita mi ha riportato indietro prima che la parte razionale potesse fermarla perché lo sapete che l'inconscio è il 95 per cento e quindi la francia adulta che voleva non stare con lui era un 5 per cento il 95 per cento ma proprio riportato lì ok per questo dovete togliervi e disintossicarvi per questo dico che una terapeuta anche la mia disse ah vabbè lo rifrequenta peccato vedrà il principio di realtà ma come sto rischiando la vita no no il terapeuta deve essere esperto di abusi scusatemi però su questo sono intransigente se la persona sta veramente male se se ne esce con le ossa un po acciaccate può andare bene una terapia qualunque però ricordatevi che voi dovete essere validate da una persona che capisce tutti i passaggi e la sofferenza che avete passato ed è molto molto importante e non può la mia disse l'angelo e il demone sono uguali no 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 è vero quello buio l'altro è falso quindi mi paralizzava no perché se tu mi dici una cosa e l'altra il messaggio double bind io rimango a metà e quindi non fu di grande cioè sapevamo tutto ma io non io io quando ho quell'estate ho capito che mille donne avevano vissuto storie come la mia che era una violenza che era un abuso mai parlato in questi termini con la mia psicanalista anni buttati e quindi state molto attenti quando andate in terapia e non pensa vado da uno psicologo che tipo di terapia boh no lo dovete sapere dovete sapere lo psicologo che formazione ha dovete chiedergli se è esperto in queste cose comunque se ci sono dei traumi seri dovete fare mdr per sanare i traumi io lo consiglio sempre capito quindi a torno al discorso del dello psicopatico allora questi occhi senza vita che rivelano la sua vera natura sono gli stessi occhi che come vi dicevo sandra brown ogni tanto mi distraggo ogni tanto mi distraggo cosa per ricaricarti e sto leggendo vi leggo dopo perché altrimenti vi risponderò a uno a uno allora questo sguardo di cui parla sandra brown e che molte donne riferiscono lo sguardo di satana lo chiamano visto il demonio visto il male è uno sguardo brutto brutto che vi può aiutare a non voler tornare più indietro e a capire veramente no e le le a questo questo lo rispondo in diretta subito perché è importante e mdr se lo trovate in rete e mdr è una terapia di elezione quando ci sono dei traumi molto forti lavora a livello neurobiologico con delle stimolazioni bilaterali del cervello la stanchezza e vi rispondo dopo vi rispondo dopo ragazzi perché se non ci riesco sia normale essere stanchi anche due anni dopo le malattie più frequenti a cui si va incontro per esempio sono la fatica cronica la l'esaurimento surrenale la fibromialgia io non avevo niente dopo mi sono venute delle malattie sì adesso pare che siano andate via pare pare però la memoria non è più la stessa l'area del dell'ippocampo che è quella che per lo stress elevato ha perso la memoria io ho studiato molto poi con gli americani proprio fatto dei corsi sui traumi per aiutare meglio le persone e per capire anche me quindi i danni ci sono dei danni cerebrali ragazzi più rimanete e più saranno forti questi danni io ne ero uscita indenne non mi aveva fatto niente quell'estate il suo terzo scarto quello fu lo scarto veramente violento poi sì qualunque tipo di malattia lo so chi non ha i soldi per curarsi è veramente un casino perché quando c'è uno stress post traumatico non è che se ne va da solo per questo io all'interno di riprendersi il cuore su zoom allora io lo ripeto io non mi sostituisco agli psicologi faccio dei metodi integrativi perché il trauma va nel corpo che lavorano sul corpo della persona ok all'interno del gruppo ogni tanto facciamo delle cose riprendersi il cuore faremo le faremo su zoom prossimamente per dare un po una mano alle persone perché c'è anche chi veramente non può permettersi una terapia ma almeno può avere un po di giovamento da una meditazione guidata sul bambino interiore da perché è gravissimo il fatto di non poter fare terapia perché effettivamente è la terapia che ci ristruttura allora Filippo se sei capitato su questo video non è a caso perché niente capita a caso comunque se avete delle se state con un narcisista ancora se non avete fatto il no contact e avete malattie il cortisolo anche io ho avuto quel problema lì sì e il cortisolo si mangia il dea poi allora andatevene andatevene anche il no contact è contatto cioè anche il nono contact cioè anche il non vederlo ma mantenere aperto il allora l'energia va dove va l'attenzione io vengo drenato energeticamente se do attenzione a una sua fotografia a un suo profilo a una sua lettera dovete fare piazza pulita di tutto perché anche il pensiero il collegamento energetico col pensiero è fortissimo e ci si arriva piano 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 però intanto si si taglia si taglia si taglia finché poi non non si dimentica poi magari a volte torna più nitido a volte meno nitido a volte ve lo sognate io l'ultima volta l'ho sognato però quando l'ho visto l'anno scorso non ho proprio provato solo una gran voglia di andarmene due secondi e via ci ho sbattuto davanti e ho misurato infatti il libro nella parte narrativa il canto della farfalla non in quella teorica in quella narrativa finisce proprio con l'ultimo incontro con questa persona che è stato nel luogo in cui l'ho contrato la prima volta nulla a caso la partita era finita ed è stata una guerra all'ultimo sangue è stata una veramente battaglia per la vita la mia proprio perché ci ero ricaduta sapendo tutto e voi sapete l'universo non è stupido quando noi abbiamo il dono della conoscenza abbiamo una grossa responsabilità perché finché non sappiamo cosa ci sta accadendo siamo tra virgolette innocenti come un bambino ma quando abbiamo capito e torniamo la cosa si aggrava non è più come prima e questo a me ha fatto molto male molto aver capito tutto ed esserci tornata lo stesso non sono l'unica ci sono altre donne però è gravissimo e allora la vostra responsabilità aumenta e l'abuso diventa anche peggiore e li paghi veramente perché come dire la prima volta erano scarti l'hai capita non sai che è un narcisista no secondo scarto l'hai capita ma non sai che è un narcisista terzo scarto l'hai capita no ma non sai che è un narcisista quarto scarto comincia a capire tutto leggi studi ti informi ti educhi ti liberi sei felice te ne vai e ci torni sono sadomas sono masochista mi voglio fare del male c'era una bambina ferita che era tornata indietro dal trauma ecco perché è molto importante poi curare il trauma curare il trauma non c'è io non ho avuto il tempo ero ero andata appunto a cercare avevo scaricato le cose avevo trovato una terapeuta esperta non più la psicanalista per curare quel trauma se lui vede questi video a me non frega niente mi facevano una domanda se lui può vedere questi video a me non interessa e come non interessa più nulla della sua vita l'ho rivisto per caso che non era un caso perché forse appunto ci dovevamo salutare perché io dovevo fare l'ultimo capitolo del libro allora state lontani da questi esseri mi raccomando è una patologia grave un gravissimo disturbo di personalità che contagia e contamina il cervello dell'altro guardate noi veniamo influenzati dal campo energetico di chi abbiamo intorno è inutile poi potete crederci o meno però laura esiste noi abbiamo un campo aurico e questo succhia 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 fa entra ci indebolisce laura quando il campo energetico si indebolisce entra di tutto ed entrano anche le malattie e noi veniamo vampirizzate ecco perché ci ammaliamo ci sentiamo stanche eccetera eccetera c'è una sola salvezza andarsene andarsene e scusate ma stanno facendo una domanda non sono riuscita a leggerla tutta dopo rispondo comunque dopo rispondo allora quando voi starete bene questa persona vi cercherà quindi vi dovete veramente blindare alcune persone hanno addirittura cambiato città per sfuggire allo psicopatico lui vi sente energeticamente a distanza sa se state bene o state male non chiedetemi perché ma lo sa cioè sono degli esseri veramente particolari io parlo dei casi estremi non parlo del narcisistello il fatto che non ti baciava che vuol dire che ti teneva sotto scacco loro usano il sesso o con l'ipersessualità o con la negazione ma sempre per punire la persona attaccano gli amici attaccano tutto e tutti perché vogliono la vostra distruzione esatto no contact blindati io purtroppo non l'avevo fatto il no contact e quindi non mi ero blindata e allora guardate io ero andata in spagna è pazzesca questa cosa stavo benissimo era andata in spagna e avevo rincontrato questa persona dopo tanti anni ci stavamo baciando stavamo prendendo un caffè era meraviglioso ero in un sogno arriva un messaggio stupido ti ricordi la password della mia postepe vedete ma come faceva a sapere che ero in spagna in quel momento con un uomo lo sentivo a distanza guardate ci sono successe delle cose pazzesche forse anche ad altre persone proprio a livello di coincidenze di sincronicità mi era particolarmente talentuoso in questo no non ci saranno ritorsioni magari vi vengono sotto casa vi vengono a spiare questo sì vogliono un po sapere se siete morte perché dovete essere morte non dovete più stare bene alcuni possono arrivare a far male nel senso anche fisico però ricordatevi che uccidere l'anima forse fa anche più male perché la persona resta viva pensate a queste mie parole cinziamo ammoliti li descrive seria il killer dell'anima non del corpo e uccidere un'anima e spegnerla è una brutta cosa perché la persona continua a vivere loro vogliono che noi diventiamo degli zombie come loro capite è una battaglia è una battaglia in cui se noi impariamo a vedere la nostra ombra tramite la loro e guarire le nostre ferite diventiamo imbattibile anzi aumentiamo la nostra consapevolezza aumentiamo la nostra la nostra luce è importantissimo e la fase cognitiva non basta perché appunto io avevo studiato tutto quell'estate e lo dovevo ammettere però continua la testa cativa e il cuore andava da un'altra parte quindi stavo malissimo mi arrivavano segni dal cielo io comunque che era veramente demoniaco ma io continuavo stavo male stavo male gli scrivevo tutti i giorni durante lo scarto dei tre mesi estivi io gli ho scritto tutti i giorni e mi rispondeva perché lui godeva della mia rabbia la energia il mio dolore voleva vedermi morta e io ero così disperata che non riuscivo a non scrivergli così allontanando la guarigione poi quando la guarigione è arrivata ci sono pure tornata e la cosa strana che notavo era che anche se stavo malissimo il mio corpo mi dicevano tutti quanto stai bene e perché la mia anima lontana da lui comunque era felice avevo dei capelli belli di solito quando uno è depresso cadono i capelli avevo dei ricci stupendi uno sguardo radiante ed era colma di dolore io ci ho pensato spesso ma era perché la mia anima era lontana da quel fuoco infero capite allora sì quando sei disperata ti ridono in faccia ma loro vogliono farti disperare ragazzi il male avete incontrato il male e il male va incontrato nella vita perché è un'iniziazione sapete cosa sono le iniziazioni no le iniziazioni tribali le iniziazioni spirituali il confronto con l'ombra l'ombra ci serve per evolvere e quindi se ci passiamo attraverso senza esserne schiacciate ce la facciamo vedete l'incontro con uno psicopatico non ha via di mezzo o ne esci elevata cioè con più di come eri prima o ne esci distrutta non ci sono via di mezzo è un incontro importante e io ne sono uscita prima elevata poi tornata indietro distrutta 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 però sentivo che la mia luce c'era da qualche parte anche se si era veramente nascosta e se non riesci a liberarti ne scrivimi subito scrivetemi in privato e se non riuscite a liberarmi scrivetemi in privato state rischiando veramente tanto e dovete credere chi ci è passato prima di voi che è stato rinchiuso con le allucinazioni in una clinica psichiatrica per un mese dove era entrata per una malattia io cioè al nervo pudendo che la stava rendendo paralitica a vita in mezzo a mille dolori perché il nervo dei genitali ok e allora credete che si può tornare a vivere anche dall'inferno ci si può tornare e vi salvate col no contact è il primo passaggio ovviamente vi salvate prendendo prima informazioni intellettuali diciamo cognitive ma poi va trasformato la cosa va portata nell'intelligenza del cuore e va vanno curate le ferite le lesioni che sono state procurate le lesioni al cuore al cervello e all'anima e andate a vedere le vostre ferite antiche guarite quelle domandatevi sì però la consapevolezza aiuta a stare separati ma la consapevolezza non guarisce una ferita non si guarisce con la consapevolezza la ferita si guarisce andando a sentire la ferita e trasformandola che è un lavoro corporeo emotivo sensoriale non può essere un processo cognitivo la mente non può curare la mente ve lo spiego se io ho un problema non lo risolvo il problema a livello mentale non posso risolvere ah Einstein diceva non si può risolvere un problema allo stesso livello nel quale il problema è stato generato d'accordo che sintomi avevo un attimo che sintomi io ho avuto di tutto ho avuto tendinitis schemie cerebrali ho avuto neuropatia del pudendo ho avuto vulvodinia intossicazione rischiavo incidenti era come se si fossero scatenate delle forze eh Laura sì sì poi se ne esce ma la mia era proprio brutta brutta avevo perso il controllo degli sfinteri di tutto allora vi stavo dicendo una cosa importante però ho perso il filo eh dopo io guardo e mi dimentico eh però ce l'ho sulla punta della lingua oponopono è carino va bene funziona come pratica allora eh il video sì 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 lo salvo poi potete riguardarlo vi stavo dicendo ah sì che la consapevolezza io non posso se io vado in terapia parlo solo di quello che mi è successo pa 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 non serve non serve serve fino a un certo punto nutre la mente ma la ferita rimane lì ragazzi la ferita va nel corpo io non ce l'ho qua una delle bibbie sui traumi il corpo accusa il colpo mente corpo cervello nell'elaborazione delle memorie traumatiche il corpo accusa il colpo ragazzi il trauma va nel corpo va nelle cellule prima che nella mente è molto importante curare tutto quindi anche l'esperienza sensoriale deve dovete sentire emotivamente sintonizzarvi con la ferita per integrarla non deve essere fatta a livello mentale se non rimane lì e non guarisce i problemi che si possono manifestare a livello di malattia e di tutto è di tutto assolutamente può succedere di tutto purtroppo le cose più gravi che io ho riscontrato io feci due tre anni fa una inchiesta con le donne proprio le sopravvissute e sono disturbi autoimmuni fibromialgia cancro seno utero organi femminili vengono più colpiti tiroidite queste sono le più comuni sì filippo è un libro molto tecnico io perché appunto con io lavoro con i sopravvissuti ai traumi non non mi sostituisco al terapeuta faccio questi metodi di integrazione proprio sensoriali e corporei ma li ho studiati bene perché vanno capiti perché c'è anche per esempio lo yoga apposta per i traumi perché il trauma è andato nel corpo e dobbiamo risentirlo e liberarlo dalle cellule fibromi anche sì fibromi leggo di fibromi leggo di cancro mi dispiace allora mi dispiace ragazzi però la malattia è il segnale della guarigione perché il corpo non ce la faceva più il corpo ci salva ammalandosi sì l'impoma viene è una sostanza tossica siamo state a contatto con una sostanza che ci ha intossicato laura laura se vuoi puoi scrivermi in privato per queste malattie vedo di darti una mano mi dispiace tantissimo io sono guarita per miracolo anche perché quando questa neuropatia non mi faceva più neanche sedere e vivevo con dolori lancinanti alla prognosi era a vita psicofarmaci antidolorifici senza mai più avere rapporti sessuali senza più poter fare yoga io sono anche insegnante di yoga ci ho preso il certificato ma lavoro con lo yoga per i traumi perché lo yoga normale qui non interessa l'ho fatto io per tanti anni perché mi piaceva vi stavo dicendo quando poi mi sono dissociato ho avuto le allucinazioni e lui lì aveva vinto veramente e dopo un mese sono tornata sulla terra però ragazze sono esperienze forti quindi risparmiatevele dovete dovete prima con noi scappare conoscere informarsi e lavorare sulle ferite comunque io ho deportato un po come al solito ma all'inizio appunto era proprio sulla maschera del narcisista e se voi poteste vedere lo sapete che noi siamo frequenze energetiche se voi poteste vedere l'essenza reale di questa creatura ma vi spaventate avete presente il quadro l'urlo di munch così rimanete e a volte l'avete visto il ghigno l'occhio vitre o quegli occhi assenti il mio addirittura cambiava diventava un altro cambiava espressione di si trasfigurava ma non come cristo sul monte tabor si trasfigurava nel demonio diventava la natura luciferina veniva fuori diventava un altro io ero terrorizzata che periodo folle che periodo folle che vedessi uno così adesso ma neanche lo intercetto a mille miglia di distanza e quindi ricordatevi anche quando incontrate persone nuove ormai campanelli d'allarme li conoscete quindi sapete dove guardare e state attenti state sempre molto attenti perché il mondo è pieno di questi personaggi quanto ha sofferto sto povero narcisista non ce ne frega niente questa è un'altra cosa del che gli empatici se lo devono dimenticare dovete diventare fottutamente egoiste quell'egoismo che nasce dall'amore di sé dalla protezione di sé e dei confini non ci frega niente della ferita del narcisista proprio niente perché ha scelto consapevolmente consapevolmente il male perché anche noi abbiamo le nostre ferite ma non andiamo mica in giro a distruggere le persone quindi povero narcisista no mamma papà cosa gli hanno fatto non importa poi alcuni soprattutto quando c'è la psicopatia lo hanno proprio nel codice genetico quindi e c'è proprio un meccanismo cerebrale diverso qualunque sia la sua storia voi ve ne dovete fregare ambiente deprivante anche ho avuto il trauma dell'abbandono e allora mica sono andata in giro distruggendo le persone non sono fatta distruggere io infatti però ho scelto di non distruggere soprattutto la capacità di introspezione e di autoguarirsi perché vi frega vi frega io so se gli empatici sentono tutto io lo sentivo quel bambino ferito è dentro di lui ma per salvare stupidamente quel bambino ferito stava uccidendo la mia di bambina ma il vostro bambino è lui che dovete salvare mica quello quel bambino cattivo crudele abortito incastrato in un corpo adulto no nessuna pietà non rabbia violenza e ostio e odio e astio e rabbia ma non 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 pietà per la ferita nel senso un po di sana compassione ma non ti deve importare perché ha scelto una strada precisa a volte si giustifica una malattia è una malattia è una malattia ma loro lo sanno quando stanno facendo del male anche se non hanno il codice empatico per sentire il male dell'altro però se ne rendono conto sono malati va bene ma i malati non devono allora se sono dei malati non devono andare in giro a distruggere anime a far venire cancri a far suicidare le donne perdonatemi se sono malati devono stare rinchiusi in una clinica psichiatrica a mio avviso infatti sono un grave danno per la società non dovrebbero circolare questo è un grave problema allora il cosa possiamo fare possiamo fare informazione è per questo che io ho fatto il libro faccio video fatto in questo sito nel questo narcisismo e manipolazione per diffondere e guardate che io lo volevo fare nel 2016 per proprio perché c'era poca informazione volevo tradurre tudor waknin e un altro testo appunto la braun e non ce l'ho fatta perché ci sono ritornata con tutti i piedi invece che aiutare gli altri ho distrutto me stessa però questa cosa mi ha fatto veramente capire poi la forza dei traumi la leva di la leva dei traumi e ho perso tutto come da manuale quando si dice che poi no perdi il lavoro perdi la salute perdi gli amici perdi la salute psichica perdi la salute mentale ma non era successo poi è successo quindi non sfidate mai l'universo cioè se non vi siete ammalati ancora non aspettate di ammalarvi dovete togliervi comunque i nostri traumi infantili noi dobbiamo avere il coraggio di andarceli a curare le ferite che sono aperte dal narcisista che rappresentano la nostra parte ombra quella spetta noi ce ne prendiamo cura ma l'ombra del narcisista la lasciamo a lui lui ci fa da specchio su alcune ferite nostre punto quello è la nostra responsabilità di guarire quella è la nostra responsabilità io lo dico sempre l'ho scritto anche nel libro il trauma di una persona guardate che non è un fatto individuale è un fatto collettivo e sociale perché una persona traumatizzata anche noi se non le risolviamo andremo probabilmente a far male anche ad altre persone perché la famiglia la mia famiglia non si è distrutta mia madre ha avuto un infarto per quello che stavo vivendo per quanto ero cambiata cioè noi dobbiamo guarire per noi e per chi ci sta intorno il trauma la guarigione di un trauma è una responsabilità collettiva io sono chiamata a guarire il mio trauma non solo per me ma per per voi per tutti per il mondo intero lo sapete e vi lascio con questa cosa molto interessante ne riparleremo earth math è una associazione americana con evidence based con evidenza scientifica che ha studiato il campo cardiaco ok le frequenze elettromagnetiche del campo cardiaco sono molto più potenti delle frequenze cerebrali un campo cardiaco invaso da rabbia odio frustrazione emette un segnale distorto un campo cardiaco appagato sereno compassionevole empatico emette un segnale coerente si chiama coerenza cardiaca ci sono proprio gli studi collegi fatti e nel con rapporto cuore cervello quindi il campo cardiaco è scientificamente dimostrato che il mio campo cardiaco si estende oltre il mio spazio fisico influenza il campo cardiaco delle persone con cui vengo incontro con cui vengo a contatto capite allora come siamo stati contaminati noi da un campo cardiaco lì non c'era neanche il cuore secondo me lì non c'era campo segnale assente ma capite l'importanza e la responsabilità di guarire noi il nostro noi dobbiamo ritorno dove sta l'istinto è nel cuore è il cuore che ci guida e noi invece ci facciamo guidare dalla testa ma la mente mente quindi il recupero ci sono proprio delle tecniche io le utilizzo con con i miei clienti di recupero proprio del campo cardiaco di sintonizzazione di ascolto del cuore che è la cosa che non seguivamo non ascoltavamo più quindi ragazzi pensatele queste cose noi dobbiamo guarirli traumi è nostra responsabilità i traumi che ci hanno lasciato e perché miglioriamo l'umanità in questo momento soprattutto c'è tanto bisogno perché c'è un trauma collettivo che sta cambiando le coscienze e cerchiamo almeno di guarire quello nostro cerchiamo di migliorare la nostra il nostro campo cardiaco cerchiamo di riportarlo in sintonia in armonia con il cervello io ho avuto il disturbo da stress post traumatico complesso ero completamente dissociata distrutta rispetto a quella che ero ero l'ombra la sindone di me stessa si tratta di salvarsi la vita allora infatti il gruppo il narcisismo e manipolazione il gruppo interno si chiama riprendersi il cuore non a caso perché c'è tutto questo discorso del del campo cardiaco come sede dell'intuizione sede della saggezza e sede della nostra verità quando siamo stati manipolati il cervello impappa ok il cervello non funziona più bene ma il cuore si il cuore sa come funzionare anche il corpo e noi dobbiamo andare nel cuore nel corpo se vogliamo guarire per questo il lavoro psicologico solo basato sulla parola arriva fino a un certo punto aiuta ma per guarire veramente cuore esperienza sensoriale emotiva corporea meditazione visualizzazioni guidate onde teta cioè c'è un mondo per guarire le ferite veramente perché dobbiamo andare là dove si sono generate il cervello da solo non ce la fa e quindi ragazze vi auguro di riprendervi il cuore e di elevarlo ok chi vuole si iscrive a riprendersi il cuore il gruppo faremo degli incontri su zoom quando tempo perché appunto io seguo le vittime di abusi però di solito non le chiamo vittime lo faccio per lavoro ma non le chiamo vittime io le chiamo farfalle perché c'è una prima fase di sopravvivenza e poi si arriva a essere farfalla infatti il libro si intitola il canto della farfalla proprio perché la farfalla è proprio questo simbolo di trasformazione perché non ritorni com'era come eri c'è una metamorfosi non rinasci secondo me si usa sempre il termine sono rinata sono rinata in realtà ti trasformi cambi è un migliore la chiamo proprio metamorfosi perché è una metamorfosi edit delle cose molto interessanti se vi scrivete quando facciamo i gruppi di autoaiuto se vi scrivete all'interno di scrivere di riprendersi il cuore potrebbe essere molto interessante perché faremo delle letture didattiche io ho studiato a lungo i miti antichi l'astrologia sacra le scienze sacre pitagora eccetera le leggende i miti e lì ci sono tante tanti archetipi che ci possono aiutare a guarire quindi faremo delle letture didattiche a tema che ci possono aiutare con delle ispirazioni delle storie che curano fiabe terapeutiche io sono giornalista e scrittrice e ho fatto anche il creare faccio anche la scritta si chiama writing therapy no lo faremo nel gruppo la scrittura terapeutica perché anche scrivere aiuta a fissare su carta anche disegnare anche immaginare l'inconscio comunque lavora con le immagini le sensazioni le visualizzazioni le onde teta la parte cognitiva non ricepisce tutto quando bisogna guarire completamente allora io vi lascio vi auguro di avere un cuore grande così ma soprattutto un cuore che sia in frequenza sintonizzato con con il cervello e se quando quel cuore si perde ritrova la strada di casa d'accordo perché il cuore comunque è collegato all'anima ricordatevelo e voi siete anima ciao ragazzi scrivetemi se volete o vi segnate a riprendersi il cuore per fare qualche esercizio insieme ciao buona domenica